Buonasera Marcos, Antonino Caravella, agenzia Stampa Italia. Come ho detto al mister prima c'è più rabbia e irruzione per come è scaturito questo pareggio della spalla. Poteva essere sicuramente gestita meglio la partita soprattutto nel finale e soprattutto durante i 90 minuti perché ci sono state varie occasioni in cui il Perugia poteva sicuramente chiuderla. Perché questo non è avvenuto? Come mai? Buonasera, il ramarico è grandissimo perché per la prestazione che abbiamo fatto abbiamo mutato via due punti che per noi erano importantissimi e soprattutto perché è un errore sicuramente un defetto che abbiamo che non riusciamo a correggere. Adesso subito non ti posso dire qual è stato l'errore puntuale anche nella gestione della partita ma la prestazione è stata e non hai raccolto i punti che meritavi forse. Tutti sappiamo che nel calcio gli episodi sono importanti però questi episodi vanno a volte quando sono 10, 11, 12, vanno anche concretizzati. Oggi la prestazione come ha detto il mister c'è stata abbiamo peccato un pochino di egoismo. Come vedi il fatto che negli ultimi minuti, i secondi, il Perugia comincia troppo spesso a perdere punti pesantissimi? Oggi la vittoria era fatta, stava arrivando. Cioè manca quel pizzico di concentrazione oppure oggi è subentato anche un po' l'egoismo in determinati casi? Allora sicuramente sia un errore di concentrazione, sono d'accordo con lei, lo sappiamo tutti anche noi che questo è un defetto che abbiamo. Allora per il campionato che stiamo facendo per questi orrori non abbiamo forse i punti che meritiamo, anzi c'è da dire anche che il merito, sappiamo che nel calcio serve a poca volte ma niente. Allora è il drammatico più grande almeno personale per quello perché ci dispiace tanto, mi dispiace tanto per i miei compagni, per me e per i miei compagni perché facciamo delle belle prestazioni, un grande sacrificio di tutti quanti e niente non raccogli il risultato che vuoi. Niente è una cosa che mi dispiace e sono sicuro che gli dispiace anche ai miei compagni. Il mister ha parlato di salto di qualità che passa proprio attraverso l'acquisizione di questa mentalità e la capacità di saper chiudere le partite. Ecco, quanto questa rabbia poi riusciremo a tradurla in una rivincita adesso domenica contro il Como e poi per raggiungere poi questo obiettivo? Sicuramente detto tutto questo da domani in poi bisogna mettere a testa Como a continuare a pedalare e a lavorare e a migliorare tutti questi aspetti che stiamo parlando noi adesso qua. Niente, c'è da lavorare, c'è da preparare bene la partita con il Como per continuare nel percorso di raggiungere il nostro obiettivo.